di saluto con la pace del signore e anche oggi 24 dicembre 2022 ti auguro una buona giornata e che la benedizione di dio sia abbondantemente abbondante nella tua vita anche nella mia ovviamente amén gloria a dio vogliamo ascoltare la parola del signore che questa mattina dice proprio così so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno testo che possiamo trovare nella seconda lettera a timotio capitolo 1 versetto 12 ed ancora dio può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo lettera agli effesini capitolo 3 il versetto 20 il titolo di questa meditazione biblica è questo una storia personale un giorno una giovane madre disperata depositò il suo bambino nato da poche ore nel presepe allestito davanti ad una chiesa di new york e prima di lasciarlo ebbe cura di avvolgerlo in una calda coperta forse ci sentiamo spinti a giudicare quel gesto ma il bambino sopravvisse ed è qui per raccontarvi la sua storia in quanto figlio adottivo non avevo idea delle circostanze della mia nascita ciò nonostante non mi sono mai sentito abbandonato di una cosa sono sempre stato certo ho avuto due mamme ed entrambe desideravano che io vivessi una di loro mi aveva dato la vita l'altra aveva investito la sua vita su di me nel libro dell'esodo leggiamo la storia di una madre che dovette affrontare una situazione disperata e poiché il faraone aveva ordinato l'uccisione di tutti i bambini maschi e ebrei e la tenne nascosto suo figlio mosè il più a lungo possibile finché quando il piccolo compì tre mesi lo mise in una cesta impermeabile e lo depose nelle acque del nilo vicino alla riva e nel momento in cui lasciò il bambino nel fiume questa donna di fede non aveva idea di ciò che sarebbe diventato se avesse cercato di tenerlo con sé lo avrebbe esposto a dei pericoli mortale quindi per quanto le costasse abbandonare suo figlio quella madre ebbe fiducia in dio che le rispose in modo straordinario poco dopo infatti mosè fu raccolto dalla figlia del faraone e più tardi dio se ne servì per far uscire il suo popolo dalla schiavitò genitori cristiani affidiamo al signore i nostri figli egli li ama li protegge e ha un progetto per ognuno di loro dio ci benedica buona giornata e facciamo tesoro di questa esortazione che c'è stata posta questa mattina dallo spirito santo per mezzo del calendario cristiano il buon seme a presto